Ha stressato il patron, questo Veneto non poteva star fuori dal Giro d'Italia? Beh no, decisamente no, poi abbiamo l'opportunità di avere queste tappe e sostanzialmente toccare 5 delle 7 province. Anche quest'anno il Giro è il Giro in Veneto, è il Giro delle grandi tappe, ma soprattutto ricordiamola di questo cronometro del Prosecco che farà parlare per tutto il Giro. Il sogno di Iesolo Sappada però c'è sempre? Beh sì, è un obiettivo anche perché siamo nell'ambito delle celebrazioni della Grande Guerra, quindi piave fiume sacro alla patria, piave scenario della Grande Guerra, quindi questa tappa ideale che parte appunto dalla foce e arriva alla sorgente, quindi da Iesolo a Sappada questa è la nostra idea. Quei grandi numeri, una grandissima vetrina che rilancia il Veneto in tutto il mondo. Sì, quasi 12 milioni di presenti lungo le tappe, ma soprattutto ricordiamoci tutti i contatti a livello internazionale, 140 paesi coinvolti, una carovana di 1.400 testate accreditate, insomma una grande opportunità per far parlare della regione più bella d'Italia, il Veneto.